La curva del contagio non si piega. In Toscana aumenta il tasso di positività e anche il numero dei ricoverati in ospedale nei reparti covid e in terapia intensiva, nell'ultimo bollettino regionale sul coronavirus. Sono 764 i nuovi casi con un'età media di 46 anni. Su quasi 20.000 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi, il 7,6% dei soggetti presi in esame è risultato positivo. La provincia di Firenze è la maggiormente colpita dall'incremento dei contagi più 200, seguita da Pisa più 101 e Lucca più 82. Grosseto invece si conferma il territorio a minor rialzo di casi. Gli attualmente positivi crescono ancora del 3% e sfiorano quota 12.000 sul territorio regionale. Le guarigioni invece sono 400 in più e superano la soglia delle 126.000, cifra che rappresenta l'88,6% dei casi totali. Intanto la campagna vaccinale anti-covid in Toscana ha superato quota 175.000 somministrazioni, di cui più di 5.000 effettuate nelle ultime 24 ore. Purtroppo aumentano anche ricoveri e decessi. Le persone nei posti letto dedicate ai pazienti covid degli ospedali sono complessivamente 814, 3 in più rispetto al bollettino precedente, di cui 129 in terapia intensiva. 14 invece i nuovi decessi nella nostra regione 9 uomini e 5 donne con un'età media superiore ai 79 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in totale le vittime arrivano a 4.414.